Si rifanno il guardaroba al centro Sicilia ma vengono scoperte e bloccate protagoniste una madre e una figlia minore. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, i carabinieri della tenenza di Mister Bianco sono infatti intervenuti al centro commerciale per fermare e perquisire due donne paternesi di 47 e 16 anni trovate in possesso di due borsoni stracolmi di capi d'abbigliamento rubati poco prima dagli stand dei negozi Moda Italia e SIX. La refurtiva del valore di circa 500 euro è stata restituita agli esercenti mentre la donna è stata arrestata in attesa della direttissima e è stata posta ai domiciliari, denunciata la figlia.